Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in questo nuovo video dedicato al transito di Mercurio in Leone, segno per segno. Vi ricordo che sono sempre degli interattivi, però andremo a fare segno per segno. Vi ricordo di ascoltare per questo transito, come sempre, il vostro segno zodiacale, l'ascendente, dove si trova la luna al momento della nascita nel vostro tema natale e poi il segno dove si trova il pianeta Gioves, pianeta della fortuna, del lavoro, delle opportunità e dove si trova anche Venere, pianeta dell'amore, dei sentimenti, delle emozioni. Allora, vediamo già approssimativamente che cosa porta questo Mercurio in Leone. Mercurio in Leone dona una particolare predisposizione a parlare in modo intenso e di impatto, che può molto tornare utile nei contesti di comunicazione in pubblico. Ovviamente questo va sempre valutato alla luce del tema generale e nel suo complesso, ma in generale l'esuberanza comunicativa è una caratteristica comune agli individui con questo posizionamento. Questo Mercurio promuove la tendenza a svolgere piani particolarmente ambiziosi ed una difficoltà ad interagire in contesti o con persone ritenute mediocri. Allo stesso tempo dona una capacità di attrarre l'attenzione attraverso l'uso della parola ed una grande creatività verbale di pensiero. La persona con Mercurio in Leone dovrà da un lato sfruttare la propria capacità di coinvolgere gli altri con la propria energia ed entusiasmo e dall'altro moderare la propria tendenza ad essere talvolta eccessivamente teatrale nelle proprie manifestazioni comunicative e a non voler ascoltare chi sostiene posizioni contrarie alle proprie. L'intelligenza di chi ha Mercurio in questo segno di fuoco è basata sulla capacità di ottenere con molta rapidità un quadro d'insieme della situazione e della capacità di cogliere le opportunità. Questo Mercurio facilita l'individuazione della potenzialità offerte dal contesto e inoltre fa sì che il processo decisionale sia efficace nei momenti più che richiedono velocità e infatti poco influenzato da timore di rischi ed ostacoli e da tentennamenti. L'elemento che può bloccare la progettualità è piuttosto il timore di perdere la faccia, il lato ombre costituito dal fastidio provocato dal dedicare tempo alla raccolta di informazioni e all'analisi. Una certa sicurezza delle proprie idee ed una intolleranza per l'analisi di dettagli ritenuti troppo minimi per meritare attenzione spinge dal volta a decidere sull'onda dell'impazienza. Spesso Mercurio il leone è caratterizzato da un'elevata sensibilità alla critica che rende l'individuo più soggetto a vivere delusioni o offese dovute a commenti non lusinghieri o rifiuti. Il metodo di comunicare è vivace, intenso e a volte sopra le righe, il linguaggio è ricco, articolato e in alcuni casi potrebbe anche essere quasi barocco. Questo facilita il soggetto nell'esprimersi in modo creativo e nell'ottenere attenzione volta a rafforzare la propria identità. L'autostima è il prestigio personale. Potrebbe esserci un'inclinazione alla scrittura dal momento che per questo per Mercurio è più facile che per altri abbellire la narrazione del vero con la fantasia, la creatività e anche il desiderio di divertire. Mercurio il leone può favorire lo sviluppo di abilità di leadership attraverso la comunicazione proprio per la capacità di parlare alla pancia delle persone e trascinare. Questo è molto altro più vero quando si tratti di parlare a gruppi piuttosto che ai singoli individui. Per comunicare efficacemente con queste persone è opportuno prestare molta attenzione a ciò che dicono, farle sentire ascoltate, contraddire in modo rispettoso ed offrire visioni alternative sempre come ipotesi e mai come certezza per contrastare con la loro. Gli individui con Mercurio il leone dedicheranno più attenzione all'interlocutore quanto più la narrazione sarà arricchita di colore e situazioni fuori dall'ordinario. Questo è quello che porta in generale Mercurio il leone, cioè porta una loquacità e una creatività proprio nel parlare e anche nello scrivere. Adesso noi andremo a vedere cosa vi porterà a voi con le mie carte segno per segno. E andiamo ad iniziare. Ed eccoci qua con i nostri amici dei pesci. Vediamo un po' che cosa ci dicono le nostre caratteristiche. Iniziamo con le caratteristiche per gli amici dei pesci. Vediamo un po' che cosa porta questo Mercurio il leone per i pesci. Vediamo questo Mercurio in leone per il segno dei pesci cosa porta. Diretto. Vediamo ancora. Vediamo treggi e difetti per gli amici dei pesci con questo passaggio. Poi abbiamo affettuoso. Vediamo ancora. E abbiamo apatico. Abbiamo due pregi e un piccolo difetto. L'apatia diciamo che è sì un piccolo difetto perché esseri apatici in un mondo dove la fretta la fa da padrone potrebbe anche essere un difetto per quanto riguarda l'essere affettuosi. Perché essere apatici certe volte non ci porta a manifestare ciò che proviamo realmente. Diretto. Diretto è un bel pregio per quanto riguarda i nostri amici dei pesci con questo passaggio. Vediamo un po'. Guardate che carta è uscita per i pesci. 100% amore. Sprigionare amore. Ecco la formula della felicità. Non è poi così difficile far star bene il tuo cuore. Guardate con che cosa si abbina. Anche quando attraversi giornate opache guardandoti intorno e mettiti in ascolto c'è sempre qualcosa che può riscaldarti. L'incontro inaspettato con un pettirosso, l'arcobaleno dopo la pioggia, un pezzo musicale che non sentivi da tempo, l'abbraccio inaspettato di un amico. Qua mi parla di affetto e di sentimenti per quanto riguarda i nostri amici dei pesci e per quanto riguarda questo passaggio importante di mercurio in leone. Allora, vediamo un po' che cosa ci dicono i miei oracoli. Ok, andiamoci a prendere un mazzetto e vediamo un po' cosa esce fuori per i nostri amici dei pesci. Vediamo cosa c'è per gli amici dei pesci con questo passaggio di mercurio in leone. Abbiamo un blocco che i nostri amici pesci hanno, presumo molti di voi legato ai sentimenti. Abbiamo la calma, prendiamole tutte dato che sono uscite. Abbiamo il cambiamento, abbiamo il desiderio, il matrimonio e la passione. Guardate un po', poi dite che le mie carte non parlano. Guardate, matrimonio, passione, amore. Tutto si collegano, tutti i mazzi si collegano. In base a quello che devono dire, in base a quello che vogliono dire, tutti i mazzi si collegano tra di loro. Allora, abbiamo un blocco. Amici dei pesci, non riusciamo a essere affettuosi, non riusciamo a essere spontanei. E questo potrebbe essere un problema, perché il vostro desiderio è appunto quello di esternare quello che provate. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare appunto il cambiamento. Più che cambiamento, dobbiamo cercare la strada giusta per poterci muovere. E la strada migliore per poter arrivare a manifestare quello che è il nostro desiderio in questo momento bloccato. Però in questo blocco verrà in aiuto appunto questo passaggio di Mercurio in Leone, perché riuscirà o a livello semplicemente di pensiero, di formule di pensiero un pochettino più evolute, un pochettino più articolate, oppure proprio a manifestare con le parole quello che è il vostro desiderio che in questo momento sentite bloccato. Però la parola d'ordine è la calma. Dovete stare calmi, dovete stare tranquilli, dovete stare sereni. Magari ascoltate della buona musica, magari ascoltate musica di quando eravate, adolescenti, di quando le emozioni erano un vulcano intorno a voi e dentro di voi. Perciò cercate di ascoltare un po' di musica di quando eravate adolescenti, di quando sentivate le prime farfalle nello stomaco, le prime emozioni. Perché qua mi parla appunto di sentimenti per la maggior parte dei amici dei pesci. Diciamo che la passione può essere rivolta a qualsiasi tipo di situazione, di hobby, di amicizia, di lavoro, però quando le carte sono così predominanti sui sentimenti, io di sentimenti devo andare a parlare. E perciò qua mi parla di un'unione, di una passione, che in questo momento si trova a essere un po' bloccata. Questo blocco lo andremo a sciogliere con questo passaggio di mercurio e leone, perché sicuramente troverete le parole giuste per trovare la vostra strada con calma e tranquillità e finalmente realizzare quello che è il vostro desiderio. Allora andiamo a vedere con i tarocchi degli angeli che cosa ci dicono per gli amici dei pesci. Abbiamo 8 di abbondanza e poi vediamo un po' che cosa viene fuori. Vediamo. E poi abbiamo asso di emozione. Vedete come le carte si chiamano uno con l'altro. Abbiamo 8 di abbondanza che è l'8 di denari. È il momento di accrescere il tuo sapere, di affinare le tue competenze. È possibile che ti venga l'improvvisa ispirazione appunto di tornare a scuola, frequentare seminari su argomenti che ti affascinano o imparare le arti di guarigione. È un buon periodo per cambiare lavoro, ricevere una promozione. La chiave del successo è nei dettagli. Verifica con cura i tuoi progetti, cioè cerca di capire realmente quello che hai all'interno, che si tratti di lavoro, che si tratta di sentimenti. Qui c'è appunto la possibilità di accrescere e di continuare un progetto che può essere anche a livello sentimentale. E poi come non concludere questa stesa con questo bellissimo asso di coppe. Questo cherubino annuncia una nuova magnifica esperienza emotiva, sentimentale. Forse incontrerai qualcuno che ti farà battere forte il cuore, o la tua relazione attraverserà un nuovo momento magico. È possibile anche che, aprendo il cuore, le tue capacità di intuizione aumentano notevolmente. Perciò tutto si rifà per gli amici dei pesci al sentimento, a quello che è appunto un'emozione, un qualcosa che voi volete esprimere. La libellula, la verità viene alla luce, adattamento, cambiamenti, trovare le risposte, trovare le giuste parole, trovare appunto la strada per aprire il cuore. Vediamo, no, 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 troppissime, no. Allora, vediamo, ancora per gli amici dei pesci, con questo mercurio in leone. Allora, la fenice, guardate che bellissima, nuova fase, rinascita, rinnovamento, cambiare idee, crescita, trasformazione. È troppo bella questa stesa per quanto riguarda gli amici dei pesci, o se vede l'ascendente in pesci, o venere, o giove, o la luna. Allora, andiamo a vedere che cosa ci dicono ancora queste bellissime emozioni. Allora, andiamo a perdercela noi. Quindi, vedete, inseguire, cercare l'attenzione, paura di essere abbandonati, cercare e incalzare. Allora, quello che mi verrebbe da dire è che, secondo me, i nostri amici dei pesci hanno avuto un blocco perché cercavano troppe attenzioni e magari non riuscivano mai ad averle. Adesso succederà un qualche cosa, perché questa situazione di cercare e non ricevere li ha fatti andare un po' in blocco, li ha fatti arretrare. Adesso questo passaggio vi sbloccherà, vi sbloccherà solidissimamente. Ci sarà una nuova fase, ci sarà una rinascita, la verità verrà fuori e sicuramente voi ritroverete tutto ciò che avete sempre desiderato. Amici dei pesci, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se vi ritrovate in queste mie parole. Vi lascio i miei contatti e io vi ringrazio, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.